buongiorno a tutti benvenuti a questa intervista della serie interviste della dante berlino che abbiamo lanciato gli ultimi mesi abbiamo anche oggi un ospite speciale che è un esponente della diplomazia culturale che è una disciplina e anche una un'attività che la dante alighieri cerca di portare avanti attraverso la propria storia la propria mission per usare un termine più contemporaneo e propri valori ovviamente ci siamo sempre concentrati molto in passato sui rapporti tedeschi ciò nonostante ci teniamo anche a enfatizzare qualsiasi rapporti fra l'italia e altri paesi altre culture europee noi come dante berlino siamo in una città cosmopolita che oltre a essere capitale della germania anche altre appartenenze culturali quindi cerchiamo di riflettere la natura cosmopolita della città in cui siamo presenti detto questo la dante alighieri è parte di un network di centinaia di comitati nel mondo ha come obiettivo quello di promuovere la lingua e cultura italiana attraverso i propri soci e questo attraverso corsi lingua eventi e attività ovviamente anche sul web in particolare potenziate durante questi ultimi mesi o quest'ultimo anno particolare detto questo io passerei la parola a davide sirna il quale ha organizzato la seduta di oggi e ci potrà esporre chi è il nostro ospite e quali sono le domande che desideriamo poi grazie davide prego buona serata benvenuti a tutti grazie per essere riuniti a questa piccola intervista molto informale allora la persona che vogliamo presentare questa sera è mi ha il dogre mi ha il dogre insegna storia all'università di bucharest in romania ed è anche un insegnante alla icd accademia per la diplomazia culturale di berlino dove insegna storia della diplomazia culturale e diplomazia culturale nelle zone di conflitto abbiamo invitato questa sera per parlare un poco dell'italia dal punto di vista di una persona della romania e soprattutto di un agente diplomatico professor dobri è stato infatti ambasciatore di romania alla santa sede a roma per vari anni e potrà certamente portare un'esperienza un punto di vista molto diverso e unico nel suo genere professor dobri grazie per essere con noi questa sera io ringrazio per questa presenza sì prego faremo però qualche domanda così molto mirata saremo più che interessati nelle sue risposte la prima domanda beh essendo la società d'antelighieri un'organizzazione che si propone di presentare la cultura ma soprattutto anche la lingua italiana nel mondo dimentichiamo che è stata fondata da giosue carducci alla come dire successivamente alla unificazione del paese con l'obiettivo di promuovere la cultura e la lingua italiana in tutto il mondo vorrei chiederle dal punto di vista di un agente diplomatico di un ambasciatore qual è secondo lei il ruolo delle lingue nella diplomazia ma le lingue sono importantissime nel lavoro diplomatico e sono importantissime perché il diplomatico è quello che va all'estero per difendere gli interessi del suo paese oggi così nel passato quando sono state iniziate le prime missioni diplomatiche permanente la diplomazia moderna per dire così loro rappresentavano innanzitutto gli interessi dei principi ma quando vai all'estero non puoi parlare solo la tua lingua dunque c'è bisogno di conoscere le lingue e non tutte le lingue sono diventate lingue di comunicazione internazionale comunicazione diplomatica e siccome si parla dall'inizio delle della diplomazia moderna con e questo diciamo un'innovazione italiana con le prime missioni che sono state inviate all'estero sulle basi permanenti e la prima è quella ricordata di 1455 che è stata inviata dal dal nel 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 mondo dal mondo italiano per per difendere diciamo questo mondo in un in un periodo molto difficile era il il quattrocento francesco sforza desiderava in quel momento di consolidare le sue posizioni a genoa ha inviato un suo personaggio un solo un suo rappresentante è stato il primo modello poi ci sono stati altri stati italiani cani che hanno fatto lo stesso anche la santa sede ha fatto ha fatto lo stesso il modello italiano è stato successivamente utilizzato dai altri paesi ma quando andavano all'estero non potevano parlare solo la loro lingua e il costume è stato che praticamente la lingua della più alta cultura che era fondata sui persone e sui personaggi di grande cultura che erano molti di loro rappresentanti della della chiesa la lingua della diplomazia è stata la lingua latina e il latino è stato quello quello primo strumento che è diventato la lingua franca diciamo la lingua franca della della diplomazia tutti i trattati internazionali sono stati negoziati fino al diciamo fine 600 e di sicuro fino al 700 sono stati negoziati in latino i trattati di pace dopo la guerra di 30 anni sono stati negoziati e scritti nel latino anche potrei dire che molto dopo ho visto tanti trattati anche nel nell'ottocento che hanno avuto una redazione latina poi pian piano dopo questo inizio italiano questo primato italiano diciamo per quanto riguarda l'organizzazione delle missioni all'estero è stato il modello francese perché la francia ha fatto anche l'altro passo quello di organizzare il lavoro delle missioni diplomatiche creando una struttura all'interno dunque nella loro capitale hanno creato un dipartimento che oggi diciamo si chiama il ministero degli affari esteri ma allora io mi ricordo che ci si chiamava luise revol era uno dei segretari di enrico terzo era nella seconda parte del cinquecento dunque i francesi hanno fatto questo poi con i grandi contributi di richelieu e innanzitutto di luigi quattro dicesimo il francese è diventato il lingua la lingua della diplomazia ed è rimasta così potrei dire fino alla prima guerra mondiale tutti i trattati sono stati fatti nel novecento con ho già detto con aggiunto latino in francese ma c'era anche un altro ho visto dei rapporti scritti dai vari paesi dai vari paesi e loro comunicavano informavano le loro autorità in francese ho visto dei rapporti della diplomazia russa in francese ho visto i rapporti dalla diplomazia romena che era comunque una diplomazia giovane alla fine del novecento inizio del novecento perché perché la diplomazia è l'attributo della sovranità di uno stato indipendente e poi fare diplomazia quando sei uno stato indipendente e comunque siccome la romania è diventata un paese indipendente dopo il trattato di pace di berlino del 1878 la diplomazia romena era comunque giovane in quel momento ma ho visto i rapporti che erano scritti in francese poi con il contributo americano alla fine della prima guerra mondiale con la grande esperienza della società delle nazioni che era il tronfo del multilateralismo la prima parte perché il multilateralismo come tale si è organizzato dopo la seconda guerra mondiale con la creazione dell'organizzazione delle nazioni unite poi non è stato più solo il francese l'inglese ha fatto una progressione molto forte come lingua dei rapporti internazionali poi dopo la seconda guerra mondiale con la creazione di tanti organizzazioni internazionali potrei dire che le lingue dei rapporti internazionali sono le lingue ufficiali dell'organizzazione internazionale perché parliamo dell'italiano è molto conosciuto che l'italiano è entrato come lingua dei rapporti internazionali nel novecento come lingua ufficiale dell'antica CSC conferenza per la sicurezza e cooperazione in Europa poi si sa che non è una lingua ufficiale ma è una lingua di lavoro del Consiglio d'Europa dunque è una progressione molto forte fatta dalla lingua italiana nei rapporti internazionali nel dopoguerà e credo che questa riflette innanzitutto un certo peso economico politico strategico ma anche vorrei dire culturale dell'Italia nel mondo odierno vengono anche in mente riguardo la prima parte della sua risposta di personalità importanti le lingue legate a queste personalità mi sono venute in mente due personalità una del mondo italiano e una del mondo rumeno quella del mondo italiano è Federico II di Svevia che è imperatore di quello che era il piccolo regno di Sicilia conosceva le lingue dei propri vicini conosceva sia il tedesco che il francese che il latino lingue come dire d'eccellenza nell'Europa del tempo ma comprendeva anche molti deletti berberi e aveva anche una buona conoscenza dell'arbo nonostante non fosse sempre in relazioni esattamente diciamo amichevoli con i popoli circostanti e l'altro invece è Vlad Tzepes colui che sarà poi conosciuto come Dracula grazie al romanzo di Bram Stoker che comunque parlava turco la Romania era in guerra con l'allora imperio ottomano come molti altri paesi dell'Europa del periodo ma Vlad Tzepes parlava turco quindi poteva anche relazionarsi con gli ambasciatori dell'impero ottomano nella propria lingua questo probabilmente aveva un certo peso all'epoca lei ha ragione ma vorrei aggiungere qualcosa lì per quanto riguarda i romeni c'è un altro esempio molto molto importante Dimitri e Cantemir Cantemir che proviene da una famiglia princiara dei principi romeni che è stato principe della Moldavia 1710-1711 è stato educato a Costantinopoli a Stambulo perché comunque era era nell'impero ottomano siccome lui era figlio di un di un principe della Moldavia è stato costretto come diciamo un modo di costringere il principe di fare le cose che l'impero ottomano diceva lui è stato costretto a rimanere a ma lui ha imparato moltissimo ha imparato moltissimo dal punto di vista culturale ha scritto moltissimo in questo senso ha imparato le lingue una padronanza delle lingue non solo quelle di grandi culture diciamo latino greco e altri ma anche le lingue del mondo di quel tempo che offriva a lui la possibilità di parlare direttamente con i rappresentanti stranieri ma perché parliamo di Berlino insieme di Berlino quando ho visto il palazzo di Potsdam ho saputo comunque ma è stato molto chiaramente detto che Federico secondo il grande grande re di Prussia quello che ha fatto questo stato sull'elettorato di Brandenburgo un reame molto forte parlava francese meglio di tedesco lui parlava benissimo francese e con il francese aveva la capacità di negoziare perché il mondo di allora oltre le guerre e le cose brutte che noi sappiamo dalla storia ma era un mondo dei rapporti molto forti fra le nazioni perché oltre la guerra c'era il dovere di assicurare lo sviluppo dei loro paesi l'economia cultura rapporti di tutto tipo dunque Federico secondo re della Prussia era molto forte anche da questo senso dunque le lingue straniere sono importantissime nella della diplomazione della diplomazione andando un attimino in Italia volevo chiederle l'Italia è un paese politicamente abbastanza giovane così cioè in più di quasi 150 anni più o meno poco più ma la cultura italiana comunque è molto più diciamo antica della comunque dello stato nel quale siamo nati e siamo cresciuti la cultura italiana intesa come figlia o erede della cultura latina quando si parla di Europa volevo chiederle qual è qual è stato il ruolo della cultura italiana non solo della lingua ma anche dell'idea di italianità per la formazione della cultura europea come la conosciamo noi oggi questa è una domanda molto interessante e mi indirizza alla mia esperienza italiana perché prima di essere ambasciatore presso la Santa Sede ho avuto una missione come junior nell'ambasciata di Romania in Italia lì ho imparato l'italiano non ho fatto una scuola ho imparato lì sul posto ed è stato un ambiente veramente straordinario perché l'Italia è come un museo all'apetto c'è così ricca da elementi i più importanti del patrimonio culturale mondiale che praticamente è sempre un invito per tutti gli altri paesi di vedere come si è sviluppata la società umana dal tempo dell'impero romano fino ad oggi sì la cultura è ben più vecchia che lo stato italiano moderno ma lo stato italiano moderno si è formato su varie esperienze statali piccoli è vero ma molto forti e ci sono stati c'è un'esperienza perché lo stato non si fa nel mondo semplice noi vediamo oggi e abbiamo avuto l'esperienza degli anni 60 degli anni 70 con i vari paesi che sono diventati indipendenti poi ci sono stati tanti problemi loro conoscono benissimo questo perché perché l'indipendenza e lo funzionamento di uno stato non è una cosa facile servono tante cose per assicurare uno stato stabile la cultura è molto importante perché da un lato c'è la cultura politica devi comportarti in un certo modo per assicurare quella modalità per far possibile lo sviluppo del tuo paese c'è l'economia ci sono le istituzioni sociali c'è la cultura ci sono le istituzioni politiche comunque molto importanti e la cultura italiana è molto forte lei richiamava diciamo gli elementi molto forti della cultura europea ma la cultura europea credo credo che si è espresso molto forte nel periodo della fine del medioevo e l'inizio dell'età moderna ma lì c'era il rinascimento ma il rinascimento è un fenomeno italiano innanzitutto si è sviluppato anche in altri paesi ma innanzitutto è un fenomeno italiano e vorrei aggiungere un'altra cosa perché è un fenomeno italiano molto interessante perché lì sul solo italiano c'era anche un altro attore molto importante nei rapporti internazionali c'era la Santa Sede e questo rapporto Santa Sede Italia è importantissimo ci sono stati conosciamo tutti che ci sono stati vari momenti nei rapporti fra la sede apostolica di Roma è lo stato italiano ma lì c'è un percorso che si fa insieme e l'italiano è la lingua dell'amministrazione della Santa Sede fra la Santa Sede dunque la chiesa cattolica l'italiano è una lingua universale si parla in tutti i paesi del mondo tutti i vescovi sono formati nelle pontifici e università lì si impara in tutti i vescovi si impara in latino come la lingua dei documenti tutti i documenti della Santa Sede hanno un originale che è nel latino poi si traducono nelle altre lingue ma si fa anche l'italiano dunque questo rapporto è importantissimo e mi ricordo di un papa non italiano il primo non italiano dopo quasi 450 anni c'era Giovanni Paolo II il polacco grandissimo papa e ha utilizzato l'italiano in un modo che ha fatto molto orgogliosi anche gli italiani e per questo che nel 2003 ero ambasciatore presso la Santa Sede l'italia ha voluto ricordare questo fatto e sottolineare che con l'italiano il papa espone l'italia nel modo positivo a livello mondiale e il ministero delle affari esteri dell'italia ha promosso un progetto dedicato a Giovanni Paolo II 25 anni del pontificato mio notato qua si chiamava la mia seconda patria la mia seconda patria era per Giovanni Paolo II il polacco che parlava italiano e portava l'italiano in qualsiasi paese del mondo mi ricordo che sottosegretario c'era Mario Baccini e il ideatore curatore del progetto c'era un vaticanista molto conosciuto Piero Schiavazzi e hanno fatto moltissimi eventi non solo in Italia in vari punti del mondo ci sono stati sei grandi conferenze organizzate in vari punti del mondo uno a New York perché c'è il mondo multilaterale a Buenos Aires molto interessante non si parlava allora di un papa argentino ma è stato organizzato a Buenos Aires perché c'era la dimensione sociale della Chiesa poi a Gerusalemme in Polonia perché era il paese di nascita di Giovanni Paolo II e a Roma e c'è stato un sesto il sesto è stato a Bucarest perché a Bucarest c'è stato l'unico incontro nel quale ha partecipato il presidente il capo di stato è stato molto interessante perché in quel momento praticamente si è parlato anche l'italiano si è parlato l'italiano a Bucarest italiano e romeno e anche quello cartello di presentazione dell'evento era fatto nelle due lingue non era la lingua ufficiale della Santa Sede perché c'è l'ufficiale è latino ma c'era la lingua del lavoro della Santa Sede dunque l'italiano è stato un'esperienza molto molto interessante l'ultima domanda che vorrei porle riguarda la lingua italiana è il rapporto con la Romania e il rumeno il rumeno si sa è una lingua cugina dell'italiano e forse fra le lingue latine è quella più vicina al latino classico che si impara a scuola in quanto ha conservato molti casi cosa che altre lingue neolatine come italiano francese portoghese spagnolo non hanno fatto qual è secondo me il ruolo della lingua italiana in Romania e come viene percepita la lingua e la cultura italiana in questo paese visto lontano ma culturalmente si sa benissimo che dopo la caduta del muro di Berlino c'è stato ci sono stati vari sviluppi nei paesi ex comunisti ma per quanto riguarda la Romania ci sono stati due sviluppi importantissimi con due paesi latini con l'Italia con la Spagna con l'Italia innanzitutto e non si tratta solo della lingua si tratta di una comunanza di origine che si sente molto bene un certo tipo di comportamento che è molto vicino anche perché c'è un intreccio delle due nazioni in Italia vivono credo quasi un milione di persone di origine romena mentre nella Romania c'è una forte rete degli imprenditori italiani che si sono sistemati nella terra romena e che vivono lì dunque c'è un rapporto interumano molto forte che è fondato sui vari interessi economici e gli scambi commerciali romano italiani sono molto forti io ho vissuto questo come inizialmente come detto diplomatico junior vedevo come il numero delle piccole e medie imprese italiane andavano in Romania per fare affari cresceva da un mese all'altro all'inizio degli anni 2000 erano moltissimi e il peso dell'Italia nel commercio estero romeno era veramente molto grande penso che c'era un quinto del commercio estero romeno che si faceva con l'Italia dunque ci sono dei legami molto forti vorrei dire anche che non sono solo una creazione post guerra fredda perché anche prima c'erano i rapporti molto forti è stato un gran peccato che fra le due guerre mondiali i rapporti politici non sono stati ottimi perché l'Italia con Mussolini è andata immediatamente a sfiduciare gli accordi di Versailles della conferenza di Parigi dopo la prima guerra mondiale mentre la Romania vedeva nel rispetto degli accordi di Parigi praticamente la sorte dello Stato romeno ma i rapporti economici erano molto forti e sono stati molto forti per l'intero periodo dunque anche nel tempo del regime comunista dopo l'inizio del regime che quando c'era una dominazione dell'Unione Sovietica molto forte nella Romania poi dopo i rapporti commerciari romeno e miglioriani si sono sviluppati dunque l'influenza italiana lì ha un certo passato sono vari italiani che hanno lasciato varie tracce nei vari ambienti in Romania si vedono sulla costiera dunque al Mar Nero perché questa stanza è stata molto nel mirino dei imprenditori italiani poi Breila e Galazzi due città portuari sul Danubio verso Mar Nero hanno una tradizione voglio dire genovese di lunga data dunque i rapporti non sono di oggi hanno un passato molto forte ma hanno conosciuto uno sviluppo veramente straordinario dopo 89 vorrei dire che anche i rappresentanti di spicco della comunità romana in Italia contribuiscono a questo sviluppo dei rapporti bilaterali sono vari professori universitari sono creatori rappresentanti dell'arte non solo delle persone che sono nel mondo lavorativo ma sono vari personaggi che contribuiscono allo sviluppo dei rapporti romano italiani probabilmente non per caso in Italia ci sono due istituti culturali romani non credo che c'è un altro paese europeo oppure nel mondo ma Europa perché lì c'è la più forte rete diplomatica e culturale romana non credo che c'è un altro paese con due istituti c'è uno a Roma Accademia di Romania ma c'è anche un altro a Venezia istituto per la cultura e ricerche umanistica e loro sono state fondate dopo la prima guerra mondiale con il contributo dei vari personaggi di spicco della cultura romana che erano legatissime alla cultura italiana e mi riferisco innanzitutto a due personaggi a Nicolae Orga il grande storico del Novecento con il contributo forte per i rapporti romani italiani lui ha voluto un istituto a Venezia perché Venezia era presente anche nel Mar Nero dunque poteva dire qualcosa anche per la storia dei romeni poi Vasile Pervan un grande archeologo romeno che ha fondato l'Accademia di Romania comunque c'era lo sforzo dello Stato romeno ma con il contributo dei grandi scienziati di uomini di cultura alta legatissimi alla cultura italiana perché per questo credo che c'è un passato, c'è un presente ma anche credo che c'è un futuro da promuovere nei rapporti bilaterali romani italiani Certamente Professore, io la ringrazio, la ringrazio per questa bella intervista ci vorremmo di vederla molto presto a Berlino quando le circostanze lo perdono Anch'io spero, anch'io spero Grazie 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 Grazie